Il salotto di Bike Show diventa TV, in onda adesso su Sky. Bike Show TV è anche online sul sito www.bikeshowtv.com anche su HTB 8 XIII Est, frequenza 12.149. I feel so close to you right now, it's a force field. I wear my heart upon my sleeve like a big deal. Your love goes down on me, surround me like a waterfall. Ringrazio davvero di aver accettato il nostro invito, sempre numerosi. Siamo alla vigilia di una corsa importantissima. Inizio subito con ringraziare Mauro Vegni, che nonostante gli impegni è voluto stare con noi. Però questa volta devo iniziare a salutarvi con un po' di tristezza, non voglio nasconderlo. È mancato da qualche giorno il vostro collega, che voi sapete, Walter Gallone, e credo che sia doveroso un saluto da parte di tutti i nostri. Un caro saluto, non dico un applauso perché ci sorperò negli altri. A parte di questo, noi siamo qui riuniti come d'abitudine a Milano Sanremo, ho voluto esordire io proprio per dare un carattere di grande informalità di trovarsi da amici. Tanto sapete benissimo come vanno le cose nel mondo del ciclismo. Io sono re d'uscita a questo convegno di adesione che ha fatto RCS e la Gazzetta dello Sport per quanto riguarda questa campagna lanciata da Time sulle salva ciclisti. Abbiamo aderito con convinzione perché da quando abbiamo iniziato il nostro percorso sportivo abbiamo sempre parlato di agonismo, ma soprattutto di bicicletta. di quanto la bicicletta possa far bene alla crescita del cittadino, alla nazione. Cito le frasi del nostro grande saggio Alfredo Martini che dice se vogliamo un futuro questo ce lo può garantire solo la bicicletta e noi lo condividiamo proprio per il bene che può fare sia i giovani, in termini di educazione stradale, di rispetto dell'ambiente, di passeggiati insieme alla famiglia, uno dei valori che la Chiesa ci ricorda. E per tutti gli altri aspetti, ecologia, ambiente e salute, per cui non mi dilungo in questo. Per economo sottrarrò tempo prezioso, oggi è una giornata impegnativa per tutti, voglio soltanto ringraziare il presidente di Rocco, dico il mio amico Renato, perché lui ha voluto affidare a noi, Enzo Ghigo, a tutti i membri del direttivo della Lega, affidare un mandato molto preciso. Io non entro nel merito di quel mandato, avremo tempo e modo di poterci incontrare anche con i giornalisti per affrontare quei contenuti, voglio soltanto dire che noi siamo impegnati, Renato, a portare avanti il mandato che ci hai dato e credo che sia una cosa sola. Lui ha detto che siamo tornati in gruppo, noi vogliamo essere in gruppo con la federazione, in una unità operativa di intenti quotidiane, di quello che sarà la forza del professionismo, sarà la forza della federazione. Buongiorno, io fui invitato in una cittadina delle Marche per inaugurare, per l'inaugurazione di un monumento alla bicicletta. Durante questa cerimonia parlò il sindaco, una signora, e disse grazie a coloro che vanno a comprare il pane in bicicletta, sempre una tazza da niente, ma raccoglie tutta l'importanza che ha questa bicicletta. che, come è stato detto stamattina, non serve solo per fare del grande agonismo, ma servirà in particolare, serve, ma servirà ancora di più per salvarsi da questo traffico caotico dove chi guida mezzo e motorizzano deve stare un po' più attento a quello che fa. Questa parola d'ordine è venuta non da un paesino sperso di campagna, ma dalla grande metropoli, da Londra. Ed è per questo che è anche importante e che è stata raccolta anche dal nostro giornale della Gazzetta dello sport. Per dire grazie, grazie alla Federazione dell'ospitalità e soprattutto grazie a tutti coloro che hanno collaborato alla redazione e alla pubblicazione di questo Vademecum, i due anni che l'associazione lo pubblica con le sue forze e quindi dobbiamo ringraziare gli organizzatori che contribuiscono, le squadre che hanno contribuito in maniera determinante alla pubblicazione di questo piccolo Vademecum. È un documento piccolo, ma è importante perché testimonia semplicemente una cosa, la volontà da parte dell'Asso Corridori di cercare di lavorare con l'unità di intenti, con le squadre, con gli organizzatori, con la federazione, con la Lega affinché il mondo del professionismo possa continuamente crescere. Tutto qua. Grazie e buon pranzo a tutti. Il lavoro che facciamo con l'Armanaco del ciclismo è un lavoro che nasce dalla passione, dalla voglia di non disperdere la memoria di uno sport importante. Gianni Mura che tutti voi conoscete ha scritto il ciclismo è lo sport con più memoria che io conosca. Io credo che lui abbia detto la cosa giusta. La memoria delle cose importanti non va dispersa per tenerle insieme anno dopo anno si fa una grande fatica ma la soddisfazione è vedere che la cosa è apprezzata. La fatica è anche di natura economica quindi io mi permetto di chiedere ai miei amici e ai miei colleghi giornalisti di aiutarci a fare sapere che l'Armanaco è vivo e lotti insieme a noi. Ciao, grazie a tutti. Allora, possiamo iniziare. Ci hanno anticipato per cui va benissimo. Grazie a tutti e buona Milano Sarendra. www.bikeshowtv.com Anche su HTB 813 Est Frequenza 12.149